Questo è Italia Reporter 24, il tuo canale di informazione, cronaca e approfondimento. Nel giorno successivo alla diffusione dell'annuncio della fine della sua relazione con Giorgia Meloni attraverso i social media, Andrea Giambruno si ritrova al centro commerciale di Orio al Serio, in provincia di Bergamo. Nel frattempo, la Meloni è in viaggio tra Egitto e Israele per partecipare al Summit Internazionale per la Pace, dove avrà incontri di alto profilo, tra cui il presidente israeliano e il presidente Netanyahu. Tuttavia, la scelta dell'ex compagno di Giambruno è decisamente più casuale. Un tranquillo sabato pomeriggio trascorso presso l'Orio Center, uno dei centri commerciali più frequentati dell'area. Metti un like al video ed iscriviti al canale per nuovi notizie e aggiornamenti. Qui, Giambruno si trova in compagnia di alcune persone, tra cui sua figlia Ginevra. La situazione prende una svolta inaspettata quando un cliente presente nel centro commerciale lo riconosce e decide di immortalare il momento con alcune fotografie. Queste immagini catturano l'ex compagno della Meloni in un momento di relax e apparente serenità, apparentemente indifferente alla notizia della separazione. Il tutto viene reso ancora più interessante dal fatto che Giorgia Meloni è in viaggio per impegni ufficiali di alto livello, mentre Giambruno si trova in un luogo del tutto comune, circondato da persone che non sembrano far parte del suo solito contesto. La foto dell'incontro casuale finisce sul noto sito italiano di Cronaca, D'Agospia, scatenando un interesse crescente e domande riguardo alla sua reazione alla fine della relazione. L'inaspettato incontro di Andrea Giambruno al centro commerciale Oreo Center ha suscitato un'attenzione significativa, tra i media e il pubblico. Una situazione intrigante che non smetterà di fare parlare di sé.